È stato un anno intenso per la politica sanbenedettese. Il 2008 ha rappresentato il giro di Boa per l'amministrazione Gaspari e sono molti gli argomenti che hanno scaldato la discussione all'interno del palazzo di Viale dei Gaspari. È stato sicuramente l'anno del Ballarin, forse nemmeno ai tempi della Samba in Serie B si è parlato così tanto della vecchia Fossa dei Leoni, una vicenda di cui si è parlato molto e sulla quale preferiamo non tornare, ma che sembra aver preso finalmente una piega concreta e definitiva che fa ben sperare per il futuro. È stato anche l'anno più tribolato per la giunta Gaspari, come non ricordare l'avvigendamento sulla poltrona dei lavori pubblici Giancarlo Vesperini, forse mai profondamente integrato nella squadra di governo di missionario a cui è subentrato Leo Sestri, politico navigato già assessore con il centrodestra. Il 2008 verrà ricordato anche per la riorganizzazione del personale comunale, un'operazione che ha creato non pochi malumori tra dipendenti e dirigenti e che ha fatto storcere la bocca persino ai sindacali. È stato l'anno anche del tanto atteso piano regolatore generale, che rimane purtroppo ancora tanto atteso. Ma per par condicio dobbiamo dire che il 2008 sarà ricordato anche per il piano casa in campo sociale, per aiutare le giovani coppie e contrastare l'emergenza abitativa, per la serrata campagna pro raccolta differenziata che ormai ha coperto tutta la città, per l'impegno nella lotta al traffico, anche se inquinamento e intensità veicolare rimangono comunque elevate. La politica ha sempre regalato spunti interessanti, costantemente seguiti e sottolineati nella nostra trasmissione Videopolis, l'approfondimento politico di TVP. Per il 2009 la speranza è che la cosa pubblica diventi sempre meno argomento per pochi esperti e sempre più materia vicina ai cittadini. Del resto è per loro che nasce e si fa.